Da Gauto, Mitsubishi Motors, in via nazionale torrente, mercogliano, a Villino. Ciao, ma tu eri ambulante, che vendevi prima? I gasolini. E cioè che? Vendevi le caccavelle, vendevi i piatti, i bicchieri, ozipeppe. E che è ozipeppe? Quasi notti. Ah, quello là è ocesse. Ocesse, prima non ci stavo ocesse, per qua basso. E stavo ocandolo. Zigerardo ha zappa e ozipeppo. Mentre sotto il ponte di Piazza Castello la discarica aumenta di smesura, con l'abbandono di alte carcasse, di mobili e soprattutto l'invasione di topi e insetti, continua la battaglia contro gli incivili, dice Gerardo Nevola. Il popolare ex commerciante di Casalinghi, mentre coltiva il suo orticello a ridosso del torrente Penestrelle, deve cercare di tenere a bada chi, anche dall'alto del ponte, lancia pericolosamente buste di rifiuti. Basterà la zappa di Zigerardo a mettere in riga oltre cavole e melenzane anche agli incivili? L'85enne pensionato ci prova. La battaglia è dura, lunga, ma l'exambulante, nonostante l'età non più verde, la sua prima linea in solitudine non si arrende. Zigerardo baluardo di un centro storico che perde sempre più memoria e identità. Oltre, chi aggerisce? E lo so, chi ci vai a dire sta gente? Chi non è nato, ma sono stati ottenuti ancora. Ancora? E io che ci aggerisce. Sono gente che non lo so come so fare. Si fermano con le macchine sulla strada? Si fermano, si sconfirono a buttare, ma se no per stare... Non lo so, non lo so, ma purtroppo che c'è da fare. Ma pure il castello, non è il centro storico, è il centro storico. Ah, ecco. Questo è il centro storico. Si è rimasto solo? Noi marciapie non ci sta, la luce non ci serve. Stanno staccate a vecchia a capa a capa. I proprietari non fanno niente, dopo un altrettanto è stato più buono. Sei rimasto solo tu qua a controllare? Ma io sono più veicci. Quanti anni ti hai? Gli 85. E sono nato qua, solo io sono rimasto. Pochissimi che sono riunti. Il fiume? Perché pure il fiume è rovinato. Il fiume ne parliamo proprio. Che stai piantando adesso? I mulignani, i pefroncini, dove fanno e passodiamo. Insomma ci vuole la zappa. Ci vuole la zappa, ci vuole un capo a sta gente. Perché quando ci dice una cosa, ci vuole pure il malamore. Che buio, tu, che sì, che fanno. Gli incivili si ribellano. Ci stanno a tutte le parti. Si ribellano. Sì, sì, sono gente proprio scostumata. Ma hanno buttato di tutto, abbiamo visto l'altra parte di Ivani. C'è pure una materazza. Eh, sì, sì, ci sta di tutto. E poi a materazza perché non potevo venire già manco a impiantare gli spini. Va bene a portarlo. Io, qualche giorno, dove che veniva? Mi vero a me e se ne va. Ah, quindi tu sei il guardiano. No, veniva a scassare pure questo. No, dove che cani? Perché buttavo a cani? Dicendo, no, signore. Ho cani, io, io, sapevo, cortico. Tu porti lo cani qua. Portati là, grazie. Grazie.